Attenzione! Chiusura anello! Resisti! Ci penso io! Bersaglio! Contatto con bersaglio! 45 secondi! L'anello non è vicino in marco! Andrà tutto bene! Ci penso io! Bersaglio vicino a me! Resisti! Ci penso io! Non... Non! Si! l'anello si sta muovendo datevi una mossa l'anello si sta muovendo l'anello si sta muovendo l'anello si sta muovendo andiamo alla zona di atterraggio l'anello si sta muovendo l'anello si sta muovendo l'anello si sta muovendo la qui c'è uno scudo corporeo livello 2 sto guarendo datemi un secondo guarendo le mie ferite uso un kit medico siamo un po' spartagliati controllate le mappe uso un kit medico bene vado sto guarendo le mie ferite faccio una pausa devo darmi una sestellata sono a terra laggiù c'è una torre di lancio l'anello non è vicino datevi una mossa sto guarendo datemi un secondo sto guarendo le mie ferite sono a terra che penso io i miei circuiti si stanno ricommettendo grazie sto guarendo le mie ferite attenzione controlliamo da questa parte bene vado faccio una pausa devo darmi una sistemata devo curarmi prendo una pausa nuovo leader uccisioni ho usato un kit medico un attimo sto guarendo datevi un secondo qui c'è una siringa chiudere un anello tra un minuto uso un kit medico un attimo non c'è molto tempo panello in lontano bene vado dieci secondi proprio qui vicino facile devo curarmi prendo una pausa faccio una pausa devo darmi una sistemata ci siamo l'anello si sta movendo attenzione capsula assistenza in arrivo capsula assistenza in arrivo sto ricaricando gli scudi faccio una pausa devo darmi una sistemata round 3 inizio controllo rovescio nessuno di noi è nell'anello la sua efficacia lo rende quasi irritante bene ok 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 Grazie a tutti Andiamo lì Qui ci sono munizioni pesanti Spiaccia le barriere Barriere in posizione La barriera è pronta Qui c'è un hop-up Strozzatura Qui c'è una RE-45 Neutralizzo l'artiglieria in arrivo Il dolce suono del silenzio Barriera piazzata Collocamento barriera Se qualcuno passa da qui Lo sapremo Attenzione Stiamo dentro l'anello Bel vantaggio Nuovo leader uccisioni Attenzione Capsula assistenza in arrivo Andiamo alla zona di atterraggio Spiaccia le barriere Barriera in posizione Chiudiamoli dentro Chiudiamoli fuori L'atmosfera è carica Siamo nell'anello Siamo al sicuro Barriera piazzata Versaglio laggiù Attenzione Il liveo uccisione è stato eliminato Mi sono presa qualche secondo per guarire Versaglio avvistato Ciudiamo Allora Grazie a tutti. Nuovo leader, uccisioni. Granata a frammentazione. Attenzione, anello. Siamo nell'anello. Mi sento positiva. Vedo un avversario. Accasso il nemico! Sto chiamando un bombardamento. Questa squadra si è... spenta? Occhi aperti, ragazzi. Rimane solo un'altra squadra. Inizio conto alla rovescia, anello. Nemico a vu. Andiamo da quella parte. Inarico! Ancora pochi metri all'anello e un minuto di tempo. L'anello è vicino. 45 secondi alla chiusura. Versaglio, vicino. L'anello non è lontano. 30 secondi. Siete i campioni Apex. Eppичino.